Ciao a tutti da Matteo Valenti e bentornati in una nuova puntata dei mezzi speciali. Oggi scopriremo tutti i segreti del Volkswagen Grand California, il camper che trasforma un semplice furgone in un hotel a 5 stelle. Oggi vi ho portato a casa di Mia, questo meraviglioso pastore tedesco. Sono alle vigne di San Pietro, un vero e proprio giardino segreto alle porte di Verona. Il luogo ideale per andare a campeggiare con un re del lusso come il Grand California e con un magnifico cane. Vero Mia? A prova! Quando vi parlavo di un hotel a 5 stelle non stavo mica esagerando, visto che qui a bordo ho trovato accappatoio e anche calzini d'ordinanza. Infatti la più grande differenza rispetto al California normale non è solo che qui si può stare comodamente in piedi, visto che l'altezza all'interno arriva a 2,2 metri, ma sul Grand California c'è anche un vero e proprio bagno con acqua calda corrente. Super chic. E allora con l'auto. Ma ora che sono finalmente tutto pulito, beh, volevo spiegarvi come ho fatto a lavarmi in questa spa, in questo centro di bellezza. Intanto abbiamo il lavello che è estraibile, così si salva spazio. Ogni soluzione qui non è lasciata al caso perché ogni centimetro è prezioso. Guardate i pistoncini che fanno sì che non sbatta il lavabo. Bravi questi tedeschi che non lasciano nulla al caso. Qui ovviamente è estraibile e a questo punto si trasforma in una pratica doccia. Per scaricare ho tre scarichi con sifone. In questo modo evito che gli odori ritornino dentro il mio bagno. E poi vi dicevo, tante soluzioni pratiche pensate per migliorare la vita sul nostro hotel di lusso su gomma. E quindi la carta igienica, per esempio, c'è col suo bel portarotolo, ma è nascosta dentro questo mobiletto, così quando vi fate la doccia l'umidità non la rovina. E poi c'è il WC che è collegato ovviamente a un WC chimico della T-Ford, molto classico. C'è la valigetta di scolo a cui si accede attraverso uno sportello esterno, come vi faccio vedere qui. Attenzione perché comunque c'è un sistema, anche in questo caso, che si chiama SOG, che attraverso una ventola alimentata elettricamente permette di non mandare odori spiacevoli, anche in questo caso all'interno del bagno e quindi poi nel camper. Appena io attivo lo sciacquone la ventola gira da un altissimo numero di giri e insieme a dei carboni attivi permette il miracolo. Quindi bagno in funzione ma senza il puzzone, senza odore. Quattro belle mensole per mettere tutto quello che serve, un bel porta asciugamani che non guasta mai e poi anche qui una bella finestra che si può tenere aperta in qualsiasi condizione climatica, anche quando piove perché è protetta da una cupola esterna. E come in ogni spa che si rispetti c'è anche lo specchio per farsi belli, anche quando il caso è un po' irrecuperabile. Ma la vera chicca è che questo bagno, grazie a una bocchetta di ventilazione dedicata, è anche riscaldato. Quindi potete farvi la doccia anche quando siete alle isole Farhor e fa un freddo becco fuori, ma voi siete qui al caldo anche perché l'acqua è corrente e calda. Una vera goduria, provare per credere. E io ho provato. È giusto per essere coccolati fino in fondo, non dovete neanche avere lo sbatti di accendere la luce, visto che c'è un sensorino che percepisce la vostra presenza e fa tutto da sé. Comodo, anche se in realtà io a volte ho provato ad andarci di notte, quando magari ero un po' assonnato, bam, si accende la luce, avrei preferito inibire il sensore e godermi il mio bagno sotto il chiarore di luna. Ma come in tutte le migliori suite, qui c'è anche una vera zona living, solo che ha bisogno di qualche istante per essere approntata e quindi via. Allora, volante, giù tutto che scompare. Leva, tac, altra leva. Pozzetto sarebbe fiero di me e abbiamo due magnifiche poltrone, guardate. E il tavolo? Zona posteriore. Guarda, tac, slitta idonea e poi gamba. Via! E siamo pronti a mangiare la pappa. Mia! È pronto! Vabbè. È bello anche mangiare in solitudine all'aria aperta. E avete mai visto una mansion senza cucina stellata? E infatti qui non manca, anche perché lo chef sono io. E quindi, piano cottura, 98 centimetri, ma tedeschi sempre intelligenti. Volendo lo si può anche allungare da un lato. E dall'altro, due fuochi alimentati con una bombola a gas che è là dietro. E cosa vi cucino oggi? Bentornati nella cucina del vostro Matteo. Allora, mi esibirò in un piatto veramente tosto, perché chi sbaglia va dritto al pressure test. E quindi, zucchine alla julienne. Ho tutto, perché qui ho il frigo da 70 litri a cassetto. È veramente gigantesco. Vano per la mia verdura. E qui, che è il California muto, guardate. Freezer. Così vado via di sofficini e la stella Michelin. Tanti saluti. Cassetto attrezzi. Taglierino. Coltello super affilato. Aia. E via. Avete dieci minuti. Non lo so imitare. Stasera mia ti faccio un piatto. E mentre le zucchine sfrigolano, guarda qua che meraviglia, bisogna anche tenere in ordine. Non so, da che vai da barbieri e c'è tutto per aria, i cavalli, cos'è sta roba. E quindi, iniziamo a lavare i nostri utensili. Qui abbiamo acqua corrente, anche in questo caso calda. Tenete presente che abbiamo 90 litri di serbatoio di scolo per le acque grigie. Quindi dovete sempre tenere sotto controllo i livelli. Ma la tecnologia viene in nostro soccorso, perché in un grande hotel c'è la domotica, è tutto tecnologico. Quindi ho questo pannello touch meraviglioso che ci dà un sacco di informazioni, tra cui i livelli delle acque. Nel mio caso ho il 48% di acqua punita, quindi ho ancora 50 litri abbondanti e ho il serbatoio al 30% delle acque grigie. Per cui posso campeggiare ancora per un bel po'. Ovunque vi troviate nel mondo, nella profonda foresta mozzonica o al lato di una piramide in Egitto, potrete sempre contare su 110 litri di acqua potabile, grazie a questo grande serbatoio che si rifornisce da questo apposito tappo. Quanto durano? Beh, nel mio caso mi sono bastati per stare due giorni, ample air, scollegato da tutto e da tutti. Un sogno. Eravamo in tre persone, ci siamo fatti anche delle docce, ecco sì, magari non ci ho lavato il cane. Vero mia? Vero. Da questo cervello elettronico possiamo monitorare tutti i parametri vitali del nostro camper in una maniera molto semplice, direi a prova di neofita del campeggio. Mi sono riuscito anch'io. E quindi tutte le luci, sono tantissime d'ambiente e soprattutto abbiamo anche quelle colorate, possiamo anche decidere diversi colori per dare così un tono più o meno raffinato al mio interno, a seconda anche degli ospiti che avrò a bordo. Tirate voi le vostre conclusioni. E poi soprattutto tutta la gestione delle temperature. Posso vedere quanto caldo freddo fa fuori, ma soprattutto quanti gradi ho qui dentro. Visto che posso accedere a tutti i sistemi di riscaldamento del mio Gran California. Ovviamente ho un sistema di riscaldamento firmato dagli specialisti della Truma. Posso decidere, che ne so, di avere 19, crepi d'avarizia, 20 gradi interni. Si occuperà di tutto lui, spargendo aria in maniera omogenea in tutta la zona abitabile. E poi la meraviglia del Gran California è che posso avere anche l'acqua calda. Posso decidere se portare l'acqua a 40 o addirittura a 60 gradi, se siete tipi freddolosi e volete lavarvi con l'acqua proprio bollente. Ancora un po' d'olio, altrimenti qua il gratin non mi viene e poi cracco chi lo sente. Ho tantissimi cassetti, ovviamente con la chiusura di sicurezza, così anche quando sono in movimento ho la certezza che siano chiusi. Sono tutti mobili e meccanismi sviluppati dai tedeschi della Etik. E si vede, perché devo dire che sono fatti veramente bene. Guardate, hanno il fondo corsa rallentato, così niente sbatte. In un resort non è che possono esserci rumori molesti. E devo dire che tutti i vani, qua ho per esempio 40 litri per stivare tutto quello che mi serve per cucinare, sono realizzati con materiali di altissima qualità e rifiniti alla perfezione. La Volkswagen del resto dice di essersi ispirata apertamente all'yacht d'altura per mettere a punto questo ambiente interno, che in effetti ho trovato davvero raffinato. Vero mia? Anche lei l'ha trovato molto, molto raffinato, uno yacht d'altura. Ma un vero nobile come me di Gran Casata, beh, non può sicuramente tollerare di mangiare infastidito da insetti. E quindi la Volkswagen ha pensato anche a quelli come me. E quindi zanzariere non solo sull'apertura generale, ma anche su tutte le altre finestrature. E quindi sono pronto a essere servito e riverito nel massimo comfort. Mia! Portami le zucchine! Le zucchine! Mia! Le zucchine! Vabbè, per avere un po' di compagnia vado io dal mio cane. Tanto qui posso mangiare anche all'aperto. Ogni pertugio del Gran California nasconde un'opportunità. E nelle portiere posteriori trovo tutto quello che serve per il picnic perfetto. Davvero grandeur. E sono pronto. Anzi no. Che sole. Per fortuna gli specialisti della Tule vengono in nostro soccorso con una poderosa tenda da campeggio. Peccato che per aprirla debba sempre chiudere il portellone laterale. In ogni caso, bacchetta magica estraibile. Così anche i nani come me riescono ad arrivarci. E poi siamo pronti per un sonoro. Giù tutto mia! Vado! Vado! Via! Sole, non ti temo! Guarda che bel lavoro. Ti meriti una zucchina. Grazie dell'aiuto. Orca. San Pietro sarà anche fiero delle sue vigne e del suo vino. Ma è solo forse perché non aveva ancora visto il mio California. Perché non aveva altro di cui innamorarsi. Ma a cosa serve questo tipo di camper van? Quali sono le differenze rispetto invece al California tradizionale? Che poi è quello più diffuso. Pensate che ne sono stati venduti più di 160.000 esemplari in tutto il mondo. E beh, questo camper si rivolge a chi ha più bisogno di spazio. A chi ha più bisogno di comfort e di versatilità. Si sta molto più comodi dentro. C'è più agio. Si può stare in piedi. Ovviamente bisogna stare un po' più attenti quando si va in giro. Perché l'altezza inizia a essere un po' importante. È 3,1 metri. Infatti gli specialisti della Volkswagen, questo camper viene costruito nello stabilimento polacco del Crafter da cui deriva, aggiungono, lo vedete, proprio un coperchio che aumenta l'altezza e quindi anche la comodità interna. E che fanno assumere a questo Gran California questo aspetto molto personale, molto riconoscibile. A me sta simpatico perché mi ricorda, ogni volta che lo guardo, un bel beluga che nuota libero nell'oceano. Comunque, tolti questi paragoni con il mondo animale, questo camper si rivolge a chi vuole comunque un mezzo agile per muoversi, soprattutto nelle città. Nonostante i 6 metri di lunghezza, io ho la versione 600, poi c'è anche la 680 che è 6,8 metri, quindi ancora più lungo. Beh, io sono sempre riuscito a parcheggiarlo nei normali parcheggi delle automobili, un dettaglio non da poco per un camper. Quindi ho un pochino più di ingombri rispetto a un California classico che di fatto dai è poco più di una monovolume, quindi il massimo della praticità per sgusciare via nei centri storici italiani, però non ho gli ingombri maxi dei massodontici camper all'italiana e io proprio per questo l'ho apprezzato molto. Poi, come dico sempre, ogni camper è buono a mamma sua perché ognuno ha il camper che cerca. Questo per esempio è perfetto per due adulti con due bambini, oppure per tre adulti. Se siete di più, beh, dovete scegliere per forza qualcosa di più ingombrante. Salute! Ma il Gran California è generoso non solo con gli umani raffrescando il loro nettare di vino o succo d'uva, ma anche con gli amici a quattro zampe e infatti è dotato di una doccia ausiliaria esterna, eccola qua, la andiamo subito a prendere, che ci permette di fare una miriade di cose, una bella doccia rinfrescante, per esempio d'estate, attacco rapido, eccolo qui, e a questo punto posso decidere, non so, di lavarmi o anche di dare da bere al cane. Semplice! Per farlo basta attivare la pompa dedicata, ma la bella differenza rispetto al California normale è che io sul Gran California, qui, posso avere anche l'acqua calda. Vero lusso! Buon appetito! Un altro bel vantaggio rispetto al California normale è che qui ho un sacco di spazio in più per mettere tutto ciò che mi serve per vivere le mie avventure. Allora, 800 litri di spazio qui nella zona posteriore sotto al piano del letto, peraltro posso anche stivare in maniera sicura i miei bagagli, visto che ho delle paratie removibili che posso mettere in quelle due slitte. E poi ho i miei amati gavoni qui, 180 litri sotto al letto diviso in due mobiletti e un altro qui di servizio alle mie spalle. Io ci ho messo cavi elettrici, il tubo dell'acqua, tutto ciò che può essere comodo a scopo operativo, quindi tanto spazio per viaggiare, diciamo, senza rinunce. E chi non è mai contento poi forse vorrà sapere che su queste due meravigliose porte a battente posteriore si può installare anche un portabici che tiene fino a due biciclette per un massimo di 35 kg di peso. Così le avventure continuano anche in off-road con la pedalata assistita. E per andare in giro? Beh, qui posso contare sul mio crafter che dona lo scheletro, l'ossatura al Grand California e quindi ho il motore 2000 turbodiesel nella variante BITD, quindi con doppia turbina. Totale, 177 CV e 450 N per metro di coppia. Vero mia? È trazione rigorosamente anteriore in questo caso, ma per chi non va da spese si può mettere mano al portafoglio e avere addirittura la trazione integrale 4Motion. Normalmente spingono le ruote davanti, ma quando iniziano a slittare un giunto viscoso mi manda motricità al retrotreno, così le avventure diventano veramente senza confini. Dentro, venite con me, la meraviglia è che mi trovo davanti la plancia, sì, di un crafter bello equipaggiato, ma sostanzialmente di una Volkswagen e quindi un ambiente molto molto familiare che ci fa sentire subito a casa, più su un'auto che su un furgone. E infatti si può avere sistema multimediale più bello, con lo schermo grande da 8 pollici, super risoluzione, tasti tutti a sfioramento, lo sapete, io avrei preferito qualche bottone in più, per fortuna ci sono due ghiere e anche Apple CarPlay e Android Auto, anche in modalità wireless. Per il resto troviamo la plancetta del clima classica delle Volkswagen di qualche tempo fa e tanti bei bottoni fisici che mi fanno felice. Quadro strumenti, anche qui molto classico, indicatori analogici e un bel computer di bordo ricco di informazioni. Io ho avuto l'onore di guidare questo camper in lungo e in largo su e giù per l'Italia. Quanto ho consumato? Beh, in media sono riuscito a fare 9 litri ogni 100 chilometri, quindi circa 11 chilometri con un litro abbondanti. Crepi l'avarizia. Dovete considerare che con un veicolo come questo si viaggia spesso, diciamo, a pieno carico. Oltre ai passeggeri ho tutto l'allestimento, tutta la preparazione e soprattutto l'acqua dei miei serbatoi, pulita o sporca che sia, ma che comunque ha un buon peso specifico. A proposito di comodità automobilistiche, qui ho il cambio automatico di serie. Attenzione però, non è il DSG delle nostre Volkswagen, ma è un Aisin A8 rapporti, quindi un convertitore di coppia per applicazioni con motori trasversali. E poi posso avere un pacchetto di sistemi di assistenza alla guida completissimo di livello 2 pieno, in questo caso, come sulle Volkswagen normali, come sulla Golf 8. E quindi cruise control adattivo, mantenimento della traiettoria, monitoraggio degli angoli ciechi. C'è anche la retrocamera e meno male, perché le dimensioni iniziano ad essere importanti e comunque è vero che si guida come una macchina, però bisogna farci un pochino l'occhio, soprattutto all'inizio. E questo occhio elettronico ci dà una mano concreta. Ha un curioso cicalino, un po' come quello dei muletti per avvisare i pedoni. A me fa un po' ridere, per fortuna si può escludere. Attenzione che il tasto per escludere il cicalino della retrocamera è optional, così come è optional anche la retrocamera. Questi tedeschi sono un po' incorreggibili sugli optional. Last but not least, si può avere anche il parabrezza termico, così quando vado in Svezia a sfidare i ghiacci e le renne mi si sbrina subito. Anche lui è optional però. Vabbè, però c'è. Il Gran California può contare su un impianto elettrico veramente di primo livello. Gli appassionati del genere potrebbero vivere un brivido guardando il quadro elettrico là dietro che vi mostro. C'è infatti il salvavite è anche l'interruttore generale per scollegare la batteria. Batteria che può essere abbinata a un inverter e quindi posso avere anche la tensione a 230 volt anche quando sono scollegato da una fonte esterna, quando sono a fare campeggio wild, così all'avventura, all'aria aperta. Posso avere comunque anche una batteria con alternatore entrambi maggiorati per avere più autonomia quando sono nell'outdoor più selvaggio e sempre per sfruttare al massimo quello che la natura ci offre tutti i giorni, posso decidere di avere anche un pannello solare o meglio un piccolo impianto fotovoltaico come nel mio caso è un optional costoso, 1900 euro ma quando il sole pompa per bene d'estate mi dà fino a 104 watt di potenza. Mica male! Lo smart working è garantito anche sulle scogliere di Dover. Se siete scimmiati di device di ogni tipo, forma, dimensione e colore non temete perché sparsi nell'abitacolo ci sono qualcosa come sei prese USB e quattro prese da 230 volt per alimentare tutto quello che volete. E poi c'è la questione caldo, temperatura. Quando siete in viaggio c'è ovviamente l'aria condizionata, si può avere anche un climatronic supplementare per raffrescare lo spazio posteriore optional. E quando siamo fermi? Allora, intanto potete contare su tutte le finestre che si aprono a compasso e su due grandi botole sul tetto che si aprono con una meravigliosa manovella. L'aria circola alla grande ma se la calura diventa veramente insopportabile il mio resort può anche offrirmi un condizionatore. Si monta sul tetto al posto della botola posteriore è un optional e può funzionare soltanto se alimentato. ovviamente da una fonte esterna. Aggiunge 32 kg di peso, non poi moltissimi, però attenzione assorbe 2200 watt che non sono pochi, però almeno così potete stare al fresco sempre anche quando decidete di fare una sosta, che ne so, a Siviglia, a Ferragosto, anche con Mia. Mia, hai capito? Stai al fresco anche a distate, anche a Ferragosto, anche con tutto quel pelo. c'è il condi. E se invece fa freddissimo perché sono andato a caccia di geyser in Islanda con il mio 4Motion? Niente paura, di serie c'è un sistema di riscaldamento di bordo acqua-aria che sfrutta due belle bombolone di gas da 11 kg, tanti per non rimanere al freddo. Volendo poi si possono avere anche sistemi di riscaldamento di bordo supplementari, ce ne sono un po' per tutte le tasche, che sfruttano il diesel elettrico o anche sistemi gas elettrico. Prezzi da 1300 a 2800 euro, però temperatura assolutamente controllata e se fuori c'è la tormenta di neve voi non dovrete far altro che tirar sul vostro piumone e selezionare un grado in più. E se siete particolarmente freddolosi, avete ancora freddo, il Gran California ha pensato anche a voi con un sistema supplementare di riscaldamento elettrico, 1400 watt, anche qui dovete alimentarlo da fuori, però insomma potete sfidare qualsiasi tipo di ghiaccio, anche quello dell'Antartide. Ma in Antartide possono andare i furgoni? Mia? Possono andare. La cosa fantastica del Gran California è che per fare il letto ci vuole un attimo, basta abbassare una delle due sponde e poi in realtà lo puoi lasciare sempre così, quindi sempre aperto e sempre pronto all'uso, non devi ogni volta riallestire la zona notte e vi assicuro che è una gran cosa. Qui gli ingegneri tedeschi hanno ricavato un letto matrimoniale da favola, da Grand Resort della Sardegna. Visto che la lunghezza arriva a 1,93 metri, quindi anche gli spirungoni, dai, ci stanno. Tra l'altro ci sono riusciti con uno stratagemma veramente geniale, semplice ma efficace. Hanno montato delle paratie allargate al posto dei classici finestrini e così hanno recuperato centimetri preziosi sia di qua sia di là. Il letto è largo 1,36 metri, si dorme con la testa di qua in modo da utilizzare la massima larghezza. Guardate, ci sono anche luci di cortesia per gustarsi un buon libro. Prima di dormire si può anche decidere di regolare l'intensità della luce tenendo premuto, beh, non vorrei mai che la vostra preziosa retina si rovinasse per dei lumen troppo aggressivi. Ci sono delle prese USB per ricaricare il proprio smartphone quando si va nanna e poi anche il tasto per chiudere tutto il camper van quando si va a dormire. Così sai quando si va a letto e dici cos'è che dovevo fare a chiudere casa? No, devo rialzarmi. No, sei già sdraiato e puoi fare tutto da qui. Tantissimi vani per riporre i vestiti, tra l'altro questo è grandissimo e ha anche una rete che è super comoda e c'è anche un guardaroba con tanto di grucce e appendi abiti e io ci ho appeso le giacche per l'avventura. Qui nel regno di Morfeo potete produrvi in sonore dormite sfruttando il materasso che è spesso 8 cm e soprattutto che poggia su una rete dotata di piastre elastiche. Lo stesso sistema che abbiamo trovato anche sul California e che vi assicuro è veramente comodo, ammortizza bene. Ma il Gran California ha un altro asso nella manica, un coniglio pronto a essere estratto dal cilindro. Premo un bottone e la magia è fatta. Un altro letto matrimoniale o quasi pronto all'uso, solo che per salirci è meglio usare una scaletta che comunque è in dotazione. Eccola qua, è in alluminio quindi super leggera e anche super robusta. L'arpiono e sono pronto ad andare in cielo. Il maxitetto Beluga ha permesso di ricavare qui un letto aggiuntivo che è ideale in realtà per due bambini o massimo un adulto. È un optional, si chiama semi di net e costa 3000 euro, però permette di godersi il Gran California diciamo un po' in compagnia. Anche perché qui volendo un adulto in diagonale ci sta. Io ci ho dormito per un po' di notti e sono stato bene. Del resto la lunghezza sfruttando la diagonale arriva fino a 1,9 metri. Il lato più corto invece si ferma a 1,6. Nel caso dormano bambini, qui si può montare una rete di sicurezza, quindi niente paura. Ed è questa la magia del Gran California. Si può vivere a pieno carico indipendentemente dalle stagioni, anche l'inverno quando fa molto freddo, mentre il California tradizionale di sopra ha una maggiolina, una tenda, quindi quando fa freddo e inverno, insomma bisogna essere un po' temerari per tenere il tetto su. Ma non qui, perché io ho il mio beluga e sto al caldo anche in Alaska. E adesso che il mio resort ha espresso tutte le sue potenzialità, cosa faccio? Vabbè, mia non la considero, quella è già andata a letto da un pezzo. Intanto mi godo la mia tisana alle erbe di montagna con la mia poderosa tazza. Bella, eh? Ma soprattutto se tutto questo relax vi sembra un po' eccessivo, potete comunque gustarvi una connessione wifi con l'hotspot di bordo. Oppure proprio per quelli che non riescono a rinunciare alle amenità domestiche, beh, si può avere comunque anche una televisione con ricezione satellitare. Ma io non ho alcun dubbio. È buono qui, è buono qui. Prima di ritirarmi nelle mie sontuose stanze però volevo raccontarvi dei prezzi. Il Gran California è un camper a 5 stelle rifinito in maniera eccelsa e pieno di sorprese e tecnologie e amenità, ma ha un costo che sicuramente non è per tutti. Il modello base del 600 parte da circa 74 mila euro, ma la mia versione, proprio quella che vi ho raccontato oggi, prendo coraggio. Beh, costa poco meno di 100 mila euro. 99 per l'esattezza, visto che sono riuscito a metterci sopra 26k di optional, praticamente un'auto di accessori. beviamoci su. E mentre la mia mente corre rapida in paesi lontani, tutti quelli che vorrei visitare con il mio Gran California, quando me lo potrò comprare magari con la mia liquidazione, automoto.it lavora sul mio TFR con orgoglio, beh, ve lo devo chiedere. Vi è piaciuta questa nuova puntata dei mezzi speciali. E soprattutto, cosa vorreste vedere in un'ipotetica prossima puntata? Che ne so, magari un camper ancora più lussuoso? Se vi va, raccontatemi tutto nei commenti qui sotto. E quindi, buonanotte e anche io ho una domanda. Ma io dormo su e mia giù o mia giù e io su? Mia dormi su o giù? Giù. Dorme nel letto padronale e io su. Va bene, è una vita dura, ma qualcuno dovrà pur camperizzarla. Grazie a tutti.